Viaggiare in treno da Pescara a Milano sarà più veloce di mezz'ora grazie ai 5 treni frecce rossa più veloci messi sulla linea adriatica. In totale saranno 20 i frecce rossa ogni giorno in circolazione tra Milano e la costa adriatica confermate anche in Abruzzo. La nuova offerta invernale di Trenitalia introduce infatti una velocizzazione per 5 frecce rossa sui 20 che ogni giorno sono in circolazione sulla linea adriatica confermate anche nella nostra regione. I 5 frecce rossa che verranno instradati sulla linea V tra Bologna e Milano diminuiranno i loro tempi di percorrenza tra la città della Madonnina e la costa adriatica fino a 30 minuti. Novità anche per il turismo invernale. Sono previsti nuovi collegamenti per le mete sciistiche e turistiche di montagna con più soluzioni di viaggio integrate con treno, bus ed aereo e promozioni ad hoc per famiglie giovani. La Winter Experience 2023 del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato prende il via infatti dal 10 dicembre e si arricchisce con nuove soluzioni per sviluppare una mobilità sempre più completa. In totale sono 24.000 collegamenti nazionali al giorno in treno e bus e 13.000 collegamenti in Europa. Novità infine per i treni del regionale in Abruzzo. La programmazione dell'offerta concertata con la regione Abruzzo, committente e programmatrice dei servizi ferroviari, vede circolare ogni giorno 167 treni per un totale di 37.600 posti a sedere. Inoltre, per chi desidera viaggiare con la propria bicicletta, i treni del regionale di Trenitalia mettono a disposizione ogni giorno della stagione invernale circa 800 posti bici, che raddoppieranno a partire dalla primavera quando torneranno in servizio le speciali carrozze e tutto bici con 64 stalli ognuna. La società ferroviaria ricorda che in Abruzzo il trasporto della bicicletta è gratuito nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie ad un protocollo d'intesa sottoscritto da Trenitalia con Regione Abruzzo.